Il film è un documentario che parli di me, vorrei che fosse Vilma al Abate a girarlo e che raccontasse chi sono io adesso, perché io adesso ho 5-6 anni, non ne ho di più, ho ancora tanta strada davanti, ho ancora tanto da raccontare, però quella storia lì mi piace, l'ho sentita, e quella donna che conosco, che ha 47 anni, che fa la prostituta, mi sembra una donna interessante, mi sembra una donna che ha tanto da raccontare, e quindi penso che da grande guarderò lei, le voglio bene.